La tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del pubblico impiego, in tutte le loro diverse espressioni, pubblica amministrazione, enti territoriali, enti locali, scuola, università, ricerca e sanità, è uno degli impegni più importanti della Will. I servizi erogati ai cittadini sono infatti strettamente legati ai diritti riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori di questo comparto, quotidianamente, senza deroghe, perché sono loro che assicurano il funzionamento del Paese. A ogni livello, il tuo voto per le RSU vale tutto questo. RSU Will, il sindacato in persona. Alle elezioni RSU Pubblico Impiego 2022, il 5, il 6 e il 7 aprile, vota Will!